È un no secco e deciso quello dell'assessore al sociale del comune di Arezzo Lucia Tanti alla richiesta, con tanto di petizione, di apertura del dormitorio per senza fissa dimora durante tutto l'anno. La scelta si conferma quella di aprirlo nei mesi più freddi. Dal 4 dicembre, giorno in cui è stato riaperto, sono stati 24 i senza tetto che vi hanno fatto accesso. Alla richiesta di apertura del dormitorio tutto l'anno, afferma l'assessore in una nota stampa, rispondiamo in un duplice modo, prima di tutto ribadendo la contrarietà dell'amministrazione a una soluzione che equivarrebbe a una sconfitta. Per noi il dormitorio, seppur disponibile a rivalutare la tempistica a seconda delle condizioni climatiche, è una soluzione di emergenza che fornisce alloggio per i mesi invernali, con l'obiettivo per chi è in difficoltà di avviare percorsi di reinserimento sociale. In secondo luogo, con una forte presa di coscienza del disagio e della povertà, ai quali facciamo fronte con un'azione concreta. Per il contrasto all'emarginazione, il Comune, afferma ancora l'assessore, è pronto ad investire 235 mila euro. Il progetto prevede l'attivazione di un servizio di segretariato sociale che svolgerà l'attività di accoglienza e prima analisi dell'utenza in vista di una presa in carico da parte dei servizi sociali. È previsto anche l'acquisto di beni di prima necessità e torneranno gli operatori di strada per intercettare le persone più reticenti a chiedere aiuto.